La città metropolitana di Torino e i comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische hanno firmato l'accordo con cui si avvia la costituzione della comunità consultiva del Parco del Lago di Candia. La convenzione ha come obiettivo la promozione della visibilità e della fruibilità pubblica del parco, da perseguire con azione di informazione e coinvolgimento della popolazione e delle associazioni locali. Il Parco naturale del Lago di Candia, che si estende su 350 ettari, è stata la prima area protetta ad essere istituita da una provincia italiana, quella di Torino, nel 1995. Il lago è stato originato, 20.000 anni or sono, dal ritiro del grande ghiacciaio Balteo. La scarsa edificazione sulle rive e la pressione turistica non particolarmente forte hanno permesso al bacino di conservare condizioni di naturalità che fanno del lago e della vicina palude, una delle più importanti zone umide del Piemonte. Stamattina dobbiamo sottoscrivere un protocollo di intesa con la città metropolitana in cui noi sindaci con la città metropolitana si impegniamo a mantenere sempre più questa realtà, questo habitat così com'è e per portare, perché no, molti miglioramenti che possono essere fatti nel futuro. Chiaramente da soli non è che riusciamo a fare molto, ma con l'aiuto di tutti cercheremo di migliorare notevolmente questo aspetto. Oggi siamo qui per festeggiare un importante risultato per il territorio, non solo per il lago, in quanto finalmente siamo riusciti a portare a termine questo accordo, un accordo della città metropolitana insieme ai comuni, ma soprattutto insieme ai cittadini, perché senza i cittadini e il territorio rimarrebbe un accordo vuoto. Invece è importante la presenza delle associazioni oggi, dei canottieri, ma anche di chi lavora all'interno per l'educazione ambientale. Questo è solo l'inizio, quindi una firma non un risultato di un termine, ma proprio un inizio. Speriamo di poter coinvolgere più cittadini possibili per valorizzare questo bellissimo territorio della città metropolitana. Grazie a tutti.